Scusate Sì, 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 sì Non riprende Sto a riprendere No vabbè però non puoi È tipo il sesto botto che fa Oggi I bubi I bubi I bubi Questa è la cosa più sportiva che ho visto fare oggi È il tronco Ci sei? Sì Sì Aspetta Sì Ok Tic Questa è un po' Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Grazie a tutti.